Le stazioni ferroviarie sono da sempre luoghi di arrivi e di partenze, di saluti e di abbracci, ma sono luoghi dove persone in difficoltà trovano accoglienza e aiuto grazie a percorsi mirati di recupero e reinserimento sociale. Questi luoghi sono gli Help Center, un grande progetto nato grazie alla collaborazione tra ferrovie dello Stato, gli enti locali e il terzo settore per affrontare e contrastare i fenomeni di disagio sociale presenti nelle stazioni. Crediamo in questo welfare rigenerativo, nella consapevolezza che questi problemi non possono che essere affrontati da tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel bene sociale comune. Grandi stazioni, ovvero il gruppo ferroviario dello Stato, che è una grande azienda, ha la responsabilità nel contribuire, nel favorire questa azione sinergica. In Toscana gli Help Center si trovano nelle stazioni di Pisa, San Rossore e Firenze, Santa Maria Novella, e proprio questo di Firenze è stato appena trasferito in via Valfonda, per garantire una migliore accessibilità e spazi più ampi. Il nuovo locale è gestito dall'associazione ACISIF, con uno sportello di ascolto, orientamento e sostegno, che ogni anno assiste oltre 3.600 persone. Tanti fiorentini che dedicano il loro tempo in questo centro a supportare centinaia di persone. Pensiamo soltanto ai corsi di lingua italiana, ci sono più di 900 persone ogni anno che ricevono questo tipo di supporto. Questo credo che sia davvero un fiore all'occhiello della Firenze, della solidarietà, dell'inclusione, dell'attenzione alla legalità, ma anche alle persone più in difficoltà e più deboli. La visita all'Help Center di Firenze è stata l'occasione per presentare il rapporto dell'Osservatorio della Solidarietà nelle stazioni italiane, che raccoglie i numeri delle attività svolte quotidianamente dai 18 Help Center presenti nelle stazioni. Qui si sono rivolti più di 20.000 persone per oltre 440.000 interventi di assistenza realizzati nel solo 2018. Credo che sia veramente un valore aggiunto che aggiunge accanto al valore della stazione come punto di riferimento per chi viaggia anche un elemento di integrazione, di socialità che è veramente fondamentale e che è importante per chi riceve questi servizi, ma anche per il decoro, per l'adeguatezza del funzionamento di una stazione importante, in questo caso come Santa Maria Novella. Anzi, l'auspicio è che la funzione sociale delle stazioni possa allargarsi e possa anche essere appannaggio di realtà più piccole, ma che vedono dei fenomeni simili rispetto a quelle delle più grandi.